non ho capito scusa la fermana si è stata sconnessa da pronti via con dove non hai visto bene ognuno c'è il suo parere poi siamo partiti secondo me bene poi abbiamo preso due gol su due lanci lunghi e già è diverso non c'entra con essere non concentrata o sconnesse abbiamo preso due gol di inevitabile incredibile soprattutto primo insomma perché poi abbiamo sbagliato l'intervento due volte a palla aperta abbiamo sbagliato abbiamo preso due gol con la nostra squadra nella metà della squadra del peso insomma perciò non mi sembra una partenza con una squadra che non avesse l'intenzione di provare andare a vincere di fare le cose in una certa maniera eravamo in pressione ultra offensiva ci ha messo due palle lunghe e abbiamo preso due gol evitabili dove sicuramente dovevamo fare meglio questo è un altro discorso penso che la squadra abbia approcciato sicuramente la partita bene poi è logico che quando prendi un gol del genere c'è il gol alla palla da fare il pareggio da due metri dalla porta e non lo fai poi dopo è una conseguenza la conseguenza partita male settimana perché abbiamo avuto pedalieri out abbiamo avuto scorza fuori nel riscaldamento abbiamo avuto fontana fuori dopo dieci minuti abbiamo avuto già andonato fuori queste sono altre situazioni e penso che i giocatori non li possono improvverare niente perché la partita l'hanno approcciata bene poi dopo se andiamo a guardare purtroppo nei particolari si fanno degli errori singoli che fanno si scaturire delle partite che sembra che siano stati o l'approccio sbagliato situazioni sbagliate questo non è perché i ragazzi erano concentrati vogliosi di fare una buona partita secondo me per lunghi tratti l'hanno anche fatta poi dopo se andiamo a guardare il risultato purtroppo è abbiamo perso 2 a 0 e abbiamo torto noi ho torto soprattutto io ci fosse una medicina a trovare domattina vado subito in farmacia la trovo non si trova importante secondo me è arrivarci a cesena non ci siamo arrivati non potevamo neanche recriminare niente perché abbiamo fatto poco stasera qualcosa di più importante abbiamo fatto avendo preso anche soprattutto la prima che poteva essere un ammazzata micidiale abbiamo provato a giocare abbiamo avuto delle buone opportunità non tantissime perché poi si poteva fare sicuramente meglio ma sai un derby del genere quando vai sotto per una disattenzione poi dopo diventa tutto più complicato però non oltre oltre a lavorare non ci sono altre medicini sto lavoro qua ed è santi se sicuramente un giocatore un po più esperto ha fatto una buona settimana di lavoro e pensavo come penso che ha fatto ha dato il suo contributo ha fatto una buona partita poi dopo qualche errore singolo lo facciamo in tutti i reparti non vado mai a focalizzare su un reparto su un altro insomma io penso che alla fine abbiamo fatto una buona partita però abbiamo perso 2 0 e quando perdi insomma i problemi si esaltano sempre di più delle cose buone che hai fatto e lo giuro che poi è una partita importante perché oltre per la classifica non derby che la gente ci teneva tanto hanno fatto tanto questa settimana per cercare di metterci in condizione di fare una buona partita avevamo tutte le intenzioni di farla secondo me eravamo anche partiti bene per fare una buona partita poi purtroppo gli episodi ci hanno tagliato la gamba eh beh questo sicuramente non non ci agevola non ci agevola l'infortunio di spedalieri non ci agevola l'infortunio di giandonato di fontana di scorza l'espulsione di pistolesi il perugia che recupera un giorno in più e non so perché tutte situazioni che non aiutano una squadra e ultima in classifica ha perso un derby 2 0 in casa però se ci stiamo piangere addosso diventa una catena di montaggio che non finisce più io conosco solo una medicina domattina alle 11 facciamo allenamento e ci prepariamo il meglio che possiamo come abbiamo sempre fatto perché il gruppo di giocatori io gli voglio dare fiducia e gli darò fiducia fino alla fine perché penso che si allenano bene sono ragazzi a posto dobbiamo migliorare sicuramente con gli ultimi arrivati che ancora non ci hanno un minutaggio importante secondo me e devono farlo velocemente perché questa settimana abbiamo bisogno di loro anche per più minuti il resto siamo delusissimi ci dispiace tantissimo mi dispiace tantissimo per la gente ma i giocatori secondo me hanno dato tutto quello che potevano dare questa sera